Occuparsi di fondi europei e di loro congettazione di un settimo occorrerebbe almeno un semestre, quindi è evidente che non si può avere la pretesa né di essere esattivi, né di entrare nel dettaglio delle cose, però come abbiamo detto in questo corso del giovane amministratore, l'idea è quella di dare i tipi degli attrezzi, cioè le linee essenziali, le linee in guida, le guidelines, perché se domani come noi ci auguriamo, alcuni di voi faranno gli amministratori del territorio, sappiano quantomeno che cos'è la progettazione, quali sono le principali priorità dei fondi europei e della programmazione europea e chi sono i soggetti istituzionali, pubblici e privati che si occupano professionalmente di queste cose. Oggi abbiamo la fortuna di avere con noi la professoressa Lucia Sera Rossi, che oltre ad essere la mia professoressa di diritto europea, quella che in qualche modo mi ha instillato, diciamo prima, il virus dell'europeismo, ecco, è anche direttrice del master in cui è una persona assolutamente competente per affrontare la materia di oggi, io le ringrazio per essere qui, le lascio subito la parola dicendo che essendo le nostre lezioni per il nostro corso fatto in crowdfunding, cioè attraverso la corso di condivido al basso, tra l'altro siamo al 92%, quindi mancano 5 giorni e ce l'abbiamo quasi fatta, abbiamo l'obbligo di contare quello che facciamo. Quindi anche queste lezioni vengono video riprese, in modo che chi ha donato per il corso abbia le riprese. Io ci tengo a dire che vengo bravo. Esattamente, non c'è nessun costo tranne i rimborsi spese per chi viene da fuori, questo ci teniamo a dirlo, quindi è veramente semplice passione e interesse per le lezioni. Grazie. Grazie, Nato. Io volevo chiedere per organizzarci con tutte le secondi, per no, non dubbio, voi siete tutti amministratori, quindi forse no. Non tutti, no. Perché se volete vedere in pratica il portale come si entra, come si cerca, sarebbe bene per organizzarsi. Se invece facciamo un discorso veramente produttivo, cioè questo modulo sui fondi, sono solo io, c'è qualcosa? No, no, c'è stato Raffaele Salinari, prima che ha fatto il project type management, poi il prossimo c'è Dio Montalti che è l'assessore del comune di Gesena, che racconta le esperienze di progetti europei, Francesco Tarantino che fa la parte dei progetti sui giovani. Come volete voi, se volete rimettere un'altra cosa. Allora, come diceva Marco, io mi sono resa conto che questo della progettazione è un mestiere, è un mestiere che è pochissimo praticato, che invece è molto profondo. Io mi sono anche se ne ottengono molti, poi una volta ottenuti non si sanno gestire, non si sanno rendicontare, abbiamo avuto anche recentemente una causa contro l'Italia, un corpo di giustizia perché una regione non aveva saputo gestire i fondi di sviluppo regionale. Ecco, forse la ragione per cui facciamo così, siamo così poco premiati, è proprio quella che manca una cultura sui fondi europei. Io mi sono resa conto proprio all'università, perché io insegno da tantissimi anni ormai il diritto dell'Unione Europea e facciamo il diritto, facciamo le istituzioni, facciamo le politiche, ma questa materia di fondi europei, noi stessi all'università l'abbiamo sempre sbobbata. Ci sembrava una cosa super tecnica, ci sembrava una cosa molto noiosa, ci sembrava quasi anche una cosa, forse io insegno di studenza non per i giuristi, ma la stessa cosa anche economia, scienze politiche, non si insegna da nessuna parte. Allora ho detto ma siccome noi, tra l'altro, dirigono un centro di ricerca sul diritto europeo, noi facevamo delle ricerche finanziate dall'Unione Europea, mi ricordo che all'inizio sembrava un incubo, perché non solo era una logica completamente diversa dai finanziamenti nazionali, ma questa è purtroppo un'altra cosa che era vera su tutto il passato, ma un po', anzi abbastanza vera anche oggi, ci sono innumerevoli tipi di finanziamenti comunitari e ognuno ha le sue regole. Quindi non è che una volta che uno ha vinto un bambino, un progetto, che so, sull'ambiente, poi ne vuole fare uno, magari su Smart City e dice beh è un buon anno. Ci sono delle cose, delle costanti di cui parleremo, però veramente ogni progetto può avere le sue regole. E quindi questo spaventava noi anche che pure, insomma, erano un centro di ricerca. Poi devo dire però che man mano che questo oggetto misterioso cominciava a diventare un po' meno misterioso, mi sono resa conto di tutta una serie di cose che possono aiutare l'immagine. Io volevo parlare per caso di questo, più che di elencarvi le 10.000 opportunità dell'orizzonte 2020, magari dopo chiediamo qualcosa, volevo proprio farvi un po' entrare in questa filosofia dei fondi e per questa ragione ho fondato un master sui fondi di finanziamenti europei, che è un master universitario, sono più di 150 ore, persone star, obbligatorie, e vi dirò che per fare questo master, proprio la prima difficoltà è stata trovare i docenti, c'è stata prima di tutto riflettere su cosa serviva per imparare questa materia e chi la poteva insegnare. Quindi ho dovuto mettere insieme, a parte il nostro gruppo di esperti di diritto europeo, ho dovuto mettere insieme degli esperti di diritto tributario, di diritto commerciale, degli economisti, dei pratici, molti pratici, dei professori di diritto agravo, quindi sono tante diverse professionalità di diritto amministrativo e devo dire che tutti i docenti che avevano contattato mi hanno detto, oddio ma io questa cosa me la devo studiare. quindi pur essendo, mi sono resa conto che questa, come dire, snobberia verso i fondi europei era largamente diffusa, anche presso colleghi, cioè non solo presso di noi che facciamo il diritto europeo, ma tutti i colleghi mi dicevano sì, effettivamente questa cosa mi interessa ma finora non l'ho mai approfondita. E quindi insomma ci costringe tutti a fare un esercizio. Io ho un grano di speranza in questi 16 studenti che stanno frequentando il master, spero di averne molti di più l'anno prossimo. Essendo un master di primo livello, io l'ho aperto alle lauree di qualunque tipo, perché abbiamo lavorato in fisica, lavorato in agraria, in economia pochi, in giurisprudenza e vengono da tutta Italia, addirittura ce ne sono anche alcuni che vengono dall'estero, diciamo non vengono dalla serba, insomma abbiamo una parola di stranamente. Proprio perché mancano, manca un'istruzione di questo tipo. Ci sono sì dei master professionalizzanti che sono di solito giornate intense, costosissime, in cui secondo me proprio si ha una semplice incalinatura. Quindi insomma vi faccio presente che esiste questa realtà, tra l'altro anche domani potremmo anche mandare i nostri stagieri del master nelle varie amministrazioni, siamo già in contatto con le varie amministrazioni, tra l'altro anche con la coesione territoriale, di particolare la coesione territoriale, la regione miglia romana, il comune di Bologna e poi anche delle realtà private dove come si fa. Quindi innanzitutto vi invito a pensare ai fondi innanzitutto come una professione possibile. Per voi o comunque sappiate che per fare bene questa cosa il fai da te è sicuramente utile e necessario, però a volte può non bastare. E questo però non vi deve fare arretrare dicendo oddio non ce la faremo mai. Perché questa è la ragione per cui probabilmente in effetti ci sono poche domande e sempre dalle stesse persone. Perché questo dei fondi europei è un po' un giro in cui sono sempre gli stessi a essere premiati. Noi tra l'altro siamo in una regione che rientra tra questi, cioè la regione migliaia romagna, almeno per i fondi indiretti, è premiata, perché c'è comunque, si potrebbe fare meglio sicuramente secondo me, però comunque c'è una buona amministrazione, una buona attrezzatura di base. Allora come funziona a grandi linee tutto questo economismo? Abbiamo, come sapete, abbiamo una programmazione pluriennale, un quadro pluriennale finanziario dell'Unione Europea in cui gli stati decidono con quanti soldi mettere e immettere nel bilancio dell'Unione Europea e poi chiaramente ci sono delle priorità su come spendere questi soldi. Queste priorità sono frutto di un negoziato che viene promosso dalla Commissione in cui il Parlamento Europeo ha una voce estremamente importante, anche perché su quelli che sono quei singoli bilanci annuali è il Parlamento Europeo che ha l'ultima parola, quindi non il governo e il Consiglio. Quindi innanzitutto quanti soldi mettere, come mette, perché dove mette, vedete il percorso. Ora c'è stato la foto, la formazione del quale pluriennale e con una grande linea i fondi si dividono in fondi diretti e indiretti. I fondi indiretti, come per esempio il fondo per l'agricoltura, il fondo di sviluppo regionale, il fondo sociale, come per la coesione, sono fondi che non sono direttamente accessibili dai privati, si passa attraverso degli intermediari che sono o le agenzie nazionali o la regione. E in questo caso è, oltre diciamo alla funzione di erogazione, questi intermediari, che sono intermediari pubblici, hanno anche una funzione importante di orientamento. e qui si vede un po' la visita delle diverse regioni, come le regioni riescono, anche nelle agenzie nazionali, riescono a portare a conoscenza del più ampio numero possibile di soggetti questa opportunità. Purtroppo, non in tutte le regioni, questo avviene diciamo in maniera trasparente, a volte c'è una gestione molto clientelare, per cui si cerca di favorire sempre gli stessi. Questo è un grave errore perché poi, quando questi finanziamenti sono approvati, c'è comunque un controllo molto pressante da parte di Bruxelles, da parte della Commissione, o in certi casi, per esempio, dell'Agenzia, l'Agenzia per la Cultura e l'Aulio Visivo svolge per esempio una funzione estremamente importante. Ecco, devo dire che purtroppo quello che viene dall'Italia viene sempre visto con una certa sfiducia. E guardate, non necessariamente perché siamo considerati dei malfattori, dei disonesti, anche se ci sono stati moltissimi esempi di frodi al bilancio dell'Unione proprio per, si chiamava per esempio, costruisco quei soldi dell'Unione. questa cosa e per questa cosa non veniva costruita, invece veniva rendi contato che era stata costruita con un po' dei falsi. Quindi, innanzitutto, problemi di questo tipo. E per problemi di questo tipo vi comunico che è stato deciso recentemente che già la Corte dei Conti Italiani è competente. quindi il controllo sarà sempre più pressante e sempre più capillare anche locale. Quindi, ci sono effettivamente esempi macroscopici di frodi al bilancio. Però, a parte questo, il nostro paese è anche visto con una certa, come dire, rassegnata disperazione da parte dei funzionari di un'onoteca. Perché, per esempio, le regole fiscali sono assurde, sono poco chiare. Una volta ho partecipato, assieme ad altre università, a un progetto che era finanziato dalla Commissione, ed era finanziato per un giusto di giustizia per i termini, era un progetto diretto, quindi si accedeva direttamente, senza passare a questi intermediari, a questi giovani, a queste inizie nazionali, e mi sono trovata, avevamo tre università italiane, più tante altre università stranieri. E quando si è trattato di dire, allora l'IVA, come ci si regola con l'IVA su questo progetto? Perché, normalmente, le forniture all'Unione Europea sono esenti da IVA. Allora, per esempio, noi, all'Università di Bologna, diciamo, se un progetto è stato finanziato all'80% dalla Commissione, al 20% dall'Università di Bologna, noi consideriamo che sia esente da IVA tutte le forniture, come, non so, il catering, l'acquisto dei computer, tutte le forniture, siano esenti da IVA per l'80%. Le altre due università italiane, una considerava tutto esente da IVA e l'altra niente esente da IVA. Quando siamo parlati tra di noi, siamo andati alla funzionale della Commissione, e abbiamo detto, ma noi stiamo applicando, cioè, quella che noi crediamo tutti e tre essere, della legge italiana. E lui si è messo le mani nei capelli e ha detto, sentite, noi basta che vada bene alle autorità fiscali italiane, a noi vada bene, perché veramente non sanno come. Quindi ci sono effettivamente tanti problemi, tanti problemi, è una volta, è un'altra, è un'altra, è una così, scarsa, scarsa approfondimento, perché sicuramente bisognerebbe chiedere anche, appunto, al Ministero di fare delle circolari chiare su questi problemi. Le circolari non ci sono, diciamo, una tipa fiscale che sembra fatta apposta per farti violare la regola in modo poi da poterti sanzionare. E questo è, a me non mi posso dire, per quello che riguarda tutta la parte applicabile a questo tipo di operazioni, che sono miste al pubblico privato, veramente non si sa che non ci spieghiamo lì. Quindi ci sono tanti problemi. Ciò nonostante sono tutti problemi superabili, non è che, nel senso che basta premonirsi, basta avere una cosa scritta dalla Commissione che dice che gli va bene questo tipo di gestione fiscale, a quel punto, siccome poi la Commissione adesso, difficilmente, la nostra amministrazione potrebbe dire qualcosa. Quindi, chiaramente, su quelli che sono i fondi e i finanziamenti diretti, cioè quelli in cui uno va da solo a concorrere, uno si trova poi anche da solo in orientarsi di fronte a tutte queste norme. Mentre invece, per voi che sono fondi indiretti, ci sono questi intermediari che dovrebbero anche orientarci nella gestione e nella gestione di contrattura. Per quelli che sono i fondi e tutti i vari finanziamenti diretti, che secondo me sono forse anche più interessanti, perché sono in meno da tutti, in meno esplorati, è assolutamente necessario poter leggere l'inglese. Qui abbiamo il portale di Horizon 2020, che non è l'unica, ma è sicuramente la più importante fondi di finanziamenti diretti da qui a 2020, quindi fatto il quadro pluriennale, fatto, diciamo, la recartizione tra quelli che vanno su fondi diretti e diretti e su Horizon, poi posso... questo è il computer pluriennale, quindi questa è la fonte, non è l'unica, ma è sicuramente una delle fonti maggiori per quello che riguarda la ricerca, la ricerca che ha, e oltre a questo ci sono anche molte altre, moltissime altre cose, ci sono delle piattaforme e ci sono delle priorità. Tra l'altro c'è un nuovo approccio della commissione per cui si cerca di far sì, qual è lo scopo di tutto su questi fondi e finanziamenti? Allora, innanzitutto dovete sapere che gli stati membri non possono aiutare le imprese, sarebbe contrario alle regole sull'efficienza. Le imprese, se vogliono degli aiuti, devono andare a chiedere di all'unione europea o tramite i fondi dell'unione europea. Ci sono delle esenzioni, c'è una membra, c'è altre categorie, però la regola, quindi innanzitutto qual è lo scopo di gestione? È uno scopo di politica industriale, cioè di orientare con un sistema di incentivi l'Europa, quindi le aziende, le amministrazioni, le università, le comunità, a andare a impegnarsi in certi settori che avevano userati strategici. Quindi i soldi sono messi in una maniera anche sinergica, per cui su cambio climatico, energia, ambiente, ci sono tante diverse forme, tanti diversi livelli a cui si può accedere, tanti diversi. Così come su, per esempio, ci sono ora tanti, dopo vediamo qualcosa, tanti settori, non so, legati alla biomedia, al biomedicale, legati alla ricerca, alla ricerca di un certo c'è tante priorità che sono state definite, che sono dietro molti diversi tipi di finanziamento. Quindi innanzitutto c'è questo desiderio di, questo approccio, non di dare finanziamenti a pioggia, perché inizialmente la comunità economica europea vedeva i soldi e aveva diviso l'Europa in tante zone, zone povere, zone che più erano povere, più gli si faceva convergere dei fondi. Ora questa divisione esiste ancora per i fondi diretti, per i fondi strutturali, però i fondi strutturali oggi sono solamente una parte, sono anche forse la parte meno innovativa di tutto quello che è finanziamento, perché quelli hanno, diciamo, sono legati appunto a delle situazioni che dovrebbero cambiare nel tempo, ma poi le seguono, come dire, un'analisi di tipo economica sui bisogni individuati attraverso, ad esempio, il reddito pro capite delle regioni. Ma quello che mi interessava farvi vedere, anche perché l'Emilia Romagna è una regione ad alto reddito, quindi non ha in particolare interesse in quei bisogni, in una parte dei bisogni, sono appunto invece questi che sono legati alla modernizzazione dell'Unione Europea. Modernizzazione nel senso del tessuto economico, della ricerca, del tessuto amministrativo, cioè quindi proprio di come fare dell'Unione Europea un'area del mondo che sia competitiva. Quindi c'è dietro, e forse per la prima volta, perché prima c'era stata una cosa che si chiama la getta di Lisbona, che era una serie di wishful thinking, cioè di pensieri, dei dei pensierini di vista dei desideri, che però era completamente sradicata sia, come dire, nella realtà, sia poi anche stata sradicata nell'esecuzione attraverso il finanziamento. Ecco, mi sembra invece che questa volta, l'Orizzonte 2020 è una cosa, ci sia una strategia. Questa strategia, tra l'altro, è stata fatta consultando gli stakeholders, quindi è stata fatta prima di essere approvata questa strategia. Tutta una serie di consultazioni, per esempio, io so come Stato di Bologna, ha partecipato a diverse consultazioni in cui, e poi a cascata ci era stato chiesto a tutti, chiaramente ai giuristi, forse meno, ma sicuramente ai medici, agli ingegneri, ai chimici, ai fisici, quali erano secondo loro i settori più promettenti, più interessanti, su cui sarebbe stato bene avere una ricerca che purtroppo portasse a dei risultati concreti. Quindi, non una ricerca meramente teorica, ma anche una ricerca che avesse poi una applicazione. Quindi, innanzitutto, consultazione degli stakeholders, gli Stati, prima di tutto, anche per consultare non solo gli enti locali, ma anche le proprie aziende. Quindi, ogni Stato ha i suoi campioni, sicuramente il cibo interessa molto più l'Italia che l'Inghilterra. Quindi, c'è stato prima una consultazione di questo tipo, in modo da cercare di fare una strategia, che è molto importante, perché l'Unione Europea è parte dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. Questo significa che, man mano che traverita la Cina, adesso anche la Russia, cosa vuol dire? Vuol dire che noi riusciremo sempre meno a fare una competizione sul prezzo. Noi abbiamo bisogno di fare una competizione ponendoci alla vanguardia. quindi noi abbiamo bisogno di sviluppare la ricerca, abbiamo bisogno di porci un po' come sono gli Stati Uniti e il Giattoone, cioè a livelli in cui noi dobbiamo vendere le idee, la ricerca, l'innovazione, lo sviluppo dei nuovi anni. Quindi, questi finanziamenti dovrebbero servire a questo. Un'altra delle novità è stato un tentativo serio di semplificazione, per quanto possa ancora sembrare complicato, perché le figure del futuro sono molto, ma molto, ma molto più semplici di com'era. Un'altra delle novità, questo accesso, questo, come dire, il fatto stesso che ci sia un portale, in cui sono elencate tante, tantissime iniziative, già si dice quando saranno le scadenze, in cui un po' si può fare, vi farò vedere la ricerca con le parole chiare. Ecco, già questo è uno strumento molto utile, perché una volta ovviamente bisogna essere addetti ai lavori, anche solo, non dico nemmeno per partecipare, ma solo per avere un'idea di che cosa ci poteva essere. Quindi, un'altra delle novità è stato questo desiderio di semplificazione. C'è poi anche un desiderio di fare dei cluster, cioè di fare dei clattori, di far sì che questi finanziamenti abbiano non solo delle ricadute per i soggetti che li ricevono, ma che abbiano certamente ricadute sulla società, in senso più ampio, che sono tutte le certe ritenute, tra virgolette, socialmente utili, ma socialmente a livello europeo. Cioè socialmente, non a livello, come dire, sicuramente di impatto dei cittadini, ma tali da rendere l'Europa più competitiva. Quindi, questo cosa fa? Fa sì che molti, moltissimi di queste, quasi tutte, ma la maggioranza di questi finanziamenti, sono dati, ad esempio, a rete, cioè incentivano cosa? Anche mettersi in rete con dei partner di altri stati membri. Quindi, ha davvero una dimensione transnazionale. Non solo una dimensione locale, non solo una dimensione nazionale, ma una dimensione transnazionale. di tutta parte, oggi, l'internet, con anche la, diciamo così, fitta rete di relazioni, che comunque anche gli enti locali hanno, normalmente, una volta finanziata dall'Unione Europea, ad esempio, penso, ai genellaggi, ai tutti vari Twin Towns, tutti questi progetti, che erano della vecchia, ma comunque esistono ancora, e, vedi, è già stato fatto, diciamo, negli anni scorsi, uno sforzo per mettere, per già costruire delle reti. Le reti cosa sono? Sono delle conoscenze personali. Ora, un po' perché costano, un po' perché, ad esempio, anche in Italia, se hanno un tempo di spending review, quindi le gite all'estero sono oggi viste come una fonte di spreco, questo vorrebbe essere vero su un certo punto, perché, ovvio, che se dietro c'è un progetto serio che poi porta delle risorse, si dovrebbe identificare. Per fortuna, oggi, con dei mail, con Skype, con le videoconferenze, non c'è, in realtà, nemmeno poi tanto bisogno di muoversi fisicamente. Però, la dimensione transnazionale, trans-europea, è assolutamente fondamentale. Quindi, in generale, il primo step è proprio questo di farsi la rete. quando si individua un finanziamento, un progetto che interessa, se, come molto spesso avviene, il dando richiede che siano almeno tre stati, almeno cinque stati diversi, a seconda poi di evidenziare il finanziamento aumenta anche, di solito, il peso e la notezza del network, quindi la prima cosa da fare è proprio questa del network, cioè di cercare dei partner che devono avere delle caratteristiche precise. Primo, li dobbiamo conoscere, dobbiamo evitare, magari, di andare con qualche partner che è noto per fare le frode fiscali, le frode di bilancio dell'Unione, e tali devono essere affidabili. Secondo, devono essere bravi, devono essere, comunque, possibilmente prestigiosi, o, magari, devono essere molto specializzati su una certa cosa. Se io voglio fare, ad esempio, una rete di comuni che vuole studiare l'inquinamento dei fiumi, chiaramente andrò cercando dei partner che sono noti per un'attività in quel settore. il taglio era un'attività in quel settore, ma poi, mi sembrava, però, devono anche poi avere già fatto qualcosa, quindi, insomma, devono essere delle caratteristiche. La prima cosa da fare è proprio al network. Poi, ripeto, la conoscenza dell'inglese, l'individuazione del progetto, del lab, l'individuazione del capo fila, cioè del coordinatore, anche questo è fondamentale, fare un coordinatore a degli oneri e degli onori, a dei costi e dei benefici, per meglio dire, i benefici sono che ciò del coordinatore prende più soldi degli altri partner, i costi sono che non lavorano, perché poi si è responsabile anche di quello che fanno gli altri. Quindi, bisogna trovare un combinatore che si è bravo e poi, bisogna fare questo progetto, servendo, appunto, che vince. Ogni progetto ha le sue regolazioni. Posso notare, rispetto al passato, che in questo sforzo di semplificazione di cui vi parlavo prima, oggi, effettivamente, è molto più chiaro capire che cosa vuole la connessione. Vi faccio vedere se riesco proprio a vedere. Allora, vedete, qui abbiamo innanzitutto tutte le moltissime aree tematiche dell'orizzonte 2020. Quindi, già questo vi da, per dire, una prima base della ricerca. Per esempio, cos'è che mi può interessare? Innovation. Innovation. Stiamo andando sul food che adesso è così di moda. Ci penso da Marone. Chi ci pensa? Marone. Non è vero, 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 non è vero. Allora, vedete qui, questo qui è un po' un cappello di quello che si può fare sotto questa etichetta dell'innovation. Per esempio, vediamo. Per prendere una di queste cose. E adesso, adesso. Ecco. Ecco. i project stories sono semplicemente quelli che ce l'hanno fatta prima, non era l'orizzonte degli clienti. Quindi. Ecco, vedete che qui vi da il link. Cioè, vi dice già se vi interessa questo tipo di finanziamenti dove potete andare a trovare. E li potete andare a trovare anche fuori. Per esempio il Cosme non è l'orizzonte degli clienti, è un'altra linea di finanziamento. Perché praticamente quasi ogni DG, moltissime direzioni generali della persona, hanno poi le loro fonti. Cioè, oltre all'horizon 2020 che è una strategia coordinata, ci sono anche poi dei finanziamenti, che, appunto, può essere giustizia tra gli interni, può essere l'ambiente, può essere media, può essere, può essere, appunto in questo caso, il Cosme. Ma volevo adesso farvi vedere questo, che è il portale dei partecipanti, quindi nel disegno del portale. Non credo che abbiano fatto un'altra lingua, non l'ho ancora, invece ci sono l'inglese, non c'è neanche il francese. Ecco qui. Voi potete cercare le cons, cioè i danni. Vedete, qui avete queste scatole di vario colore, che sono già dei danni aperti. Ora, non è che tutto viene dannito allo stesso momento. Qui c'è un orizzonte di 6-7 anni, quindi quello che vedete qui sono innanzitutto, per esempio, per voi, posso essere l'interesse di distanza generale. Non so. Diciamo, per esempio, questo. Allora, vedete, voi entrate dentro, ci interessano le nanotecnologie. Entrate dentro questa scatola gialla e che cosa trovate? Trovate innanzitutto la data di pubblicazione, la data di scadenza. Vedete, questo scade il 26 marzo 2012. Il budget, cioè quanti soldi ci sono per questa linea di nanotecnologie. e poi trovate tutto quello che vi serve, trovate. Quella è la descrizione. Qui ci sono tutti, se si va a cliccare, qui ci sono tutte le, per esempio, le regole di partecipazione. Sono, qui si possono scaricare, non lo faccio, perché non so di destra. Inquinarlo, se non c'è questa cosa. Però uno si può già scaricare tutti i documenti per una call che scade nel 2015. Tra un anno. Usa tutto il tempo di prepararsi. Ecco, qui vedete anche chi vi può aiutare su questo tema. Ogni call ha il suo, ad esempio. Allora, qui per le nanotecnologie potete chiedere aiutori ai national contact points, a queste reddine di imprese, a varie, al messo italiano e a questa fitta lista di varie organizzazioni che operano in questo settore. Allora, addirittura, se vi interessa, voi potete, vedete, chiedere di essere inseriti in una mailing list per cui vi arrivano le notizie. Quindi, vedete, diventa molto più semplice. Chiaramente uno deve sapere che cosa gli serve. Se uno dice, voglio sapere tutto quello che succede in tutti i settori, dovrebbe, francamente, cioè, allora a quel punto quello diventa il mestiere e quindi, se non dice, a me, mi interessa seguire una di queste cose, è abbastanza facile. Volevo anche farvi vedere, quindi vedete come, è stato molto semplificato. Volevo anche farvi vedere che è possibile, se ritrovo, provare, come c'è un nuovo nome, vedete. Qui ci sono gli aggiornamenti. Vedete qui tutto lo scritto Search Topics. Qui addirittura avete altre informazioni e potete addirittura cercare con una parola chiara. Per esempio, mettiamoci Smart. E cosa mi da? Mi da tutto, per esempio, Smart City Solutions. Allora, andiamo. E qui mi da, vedete, tutti i Topics che possono, in questo caso no, partengono tutte la stessa call, ma potrebbero essere anche di call diverse. facciamo un altro esempio. Facciamo un altro esempio. Se io metto Biofeed, per esempio, vediamo se non c'è qualcosa. Anche qui mi da tutte le call che possono essere diverse. e adesso mi sono utilizzate. Adesso mi sono utilizzato, per esempio, in un altro esempio. Adesso mi sono utilizzato, per esempio, in un altro esempio. quindi con questo sistema voi potete intanto uscire dalle scatole perché è possibile che una cosa che vi interessa sia in due scatole diverse. e potete anche, vedete, qui andare fuori a prendere tutte le marie, le marie forse. Per ogni tuolo avrete, ripeto, la descrizione, questo qui è molto importante. Vedete l'altro scritto? Esperto e l'ultimità. Che cosa vuol dire? Vuol dire che quella è la ragione per cui è stata fatta quella call. e quindi, quando voi dovete costruire tutto il vostro progetto, dovete essere ben sicuri che risponda a tutte queste cose che non ci sono anche corte, sono corte da leggere. Allo stesso tempo non sono troppo corte, perché ricordo in passato delle call che erano talmente oscure, in cui non si capiva qual era il vero obiettivo. Invece qui, per quello che ho visto io finora, è piuttosto chiaro. Qui ci sono anche i topics, cioè tutto quello che la ricerca dovrebbe coprire. Qui ci sono gli aspetti pratici. Bene, quindi questo per farvi vedere il modo che funziona, l'orizzonte del TV. poi la ricercato della costantina del TV. Qui ci sono anche i appena, il display del TV. Qui ci sono i appena a vedere il a sua conto. Io ho visto anche i appena a vedere il zuo, Quindi bulla è un'attima, la ricerca dovrebbe essere la minora. Ci sono i appena a vedere i appena. Chi è i appena. Noi, grazie a vedere il tema del video. だから, quindi, wozuò di essere il mondo, vi lascio qui sullo suo mondo così magari già nel frattempo cominciate a vedere che cose vi dovrebbero interessare per fare questa lezione sullo scopo di farvi diventare curiosi di quello che ci può essere e allora questo appartiene quindi tutta questa banca là tutte queste norme database della commissione servono proprio per il primo step che è quello di dire mi piacerebbe fare un progetto chiedere un finanziamento di questo tipo non c'è solo H2020 che è fatto sulla ricerca ma non c'è la ricerca universitaria ma ce ne sono grandi altri questi sono i progetti diretti quelli indiretti invece sono più facili da trovare perché le agenzie nazionali, le regioni le associazioni di categoria quindi quelli sono meno come dire esoterici perché sono comunque attraverso dei canali istituzionali che nelle varie posizioni in cui uno si trova si può comunque immaginare che gli verrà la fornita notizia su richiesta direttamente a volte basta scrivere sempre le mette in questo su un certo tipo di opportunità questi invece diretti uno se li deve proprio pescare da soli certo è opportuno fare quello che nel mio piccolo sto facendo io adesso con voi e che ho visto però che ha un po' anche la ragione il comune fanno e cioè quello di comunque dare un'informazione anche su questo tipo almeno un'informazione molto generale su cosa ci può essere e quindi sicuramente sopra lo sta facendo un po' di industria cioè ci sono comunque anche qui degli intermediari che possono dare delle informazioni tipo di imprese queste le associazioni di categoria o fami anche qui sopra le funzionano meglio e quelle che funzionano peggio a livello locale quindi questo rientra appunto nel trovare il progetto trovare il progetto il passo successivo come vi dicevo è quello di fare il network qui ogni progetto richiede un network ci possono essere anche dei casi eccezionali per esempio vi facevo vedere il cosme ci possono essere anche dei casi in cui si non è necessario avere un network in cui si accede direttamente ma sono molto per la mobilità c'è anche Erasmus comunque Erasmus è un'altra cosa nel senso che Erasmus è sicuramente quello un finanziamento ma quello passa attraverso l'università quindi lo studente deve semplicemente informarsi qual è la lista dei posti Erasmus a disposizione nella sua università c'è Erasmus Plus che l'hanno aperto anche certo l'Erasmus Plus di cui sapete possiamo anche parlare allora l'Erasmus innanzitutto cos'è l'Erasmus nasce da una operazione di volontariato che tra i professori nel senso che i professori hanno le loro conoscenze si mettono d'accordo di scambiarsi gli studenti alla base c'è una cosa di questo poi c'è una carta Erasmus che le università devono rispettare per entrare in questi scambi c'è un sistema di trasferimento dei crediti con dei parametri che siano appunto facilmente applicabili dappertutto e c'è un misero finanziamento che viene dato in pochi soldi allo studente in comunità però qui non è qualcosa che il studente deve chiedere all'Unione Europea cioè riceve soldi all'Unione Europea ma passa attraverso è un fondo indiretto è un fondo indiretto si non è un fondo sculturale adesso c'è un passaggio italiano l'Erasmus Plus che cos'ha di nuovo? Allora innanzitutto praticamente ripiloghe e riprende tutto quello che c'era prima in materia di istruzione tutti i programmi che si chiamavano Erasmus Leonardo da Vinci il Groot Ving non solo per gli studenti universitari ma anche per quelli che si sono già laureati che c'è per un moustache anche per l'educazione e l'educazione per gli adulti il Life è quella è quella certo ecco quindi cerci di rire nell'Erasmus Plus sono conflite tutte quelle azioni è confluita l'azione Jean Monnet io per esempio ho avuto una cattura Jean Monnet a persone cioè il supporto all'università per insegnare le materie dell'Unione Europea ma poi una cosa interessante sono conflite nell'Erasmus Plus il volontariato europeo e lo sport ora perché è interessante lo sport? questa è una voglia di vedere perché innanzitutto è una novità dovete sapere che lo sport fino a tantissime novità non era una competenza dell'Unione Europea in realtà vi posso anche dire che fu introdotto come competenza dell'Unione Europea dopo l'allargamento per una ragione molto banale terra a terra e cioè sapete che quando da un certo momento in poi è stato deciso che ogni nuovo Stato quando uno Stato aderisce deve avere un commissario solo che con tanti Stati che cosa si può fare tutti questi commissari perché c'era già il commissario dell'agricoltura dell'industria dell'energia del mercato interno bla bla alla fine ha detto facciamo anche il commissario per lo sport e quindi ha voluto fare anche una decima direzione generale della commissione per lo sport ma detto questo non è che la commissione ha una competenza dello sport di per sé ce l'ha ha una competenza di supporto non è che può armonizzare certe reti però può supportare appunto tramite dei fondi e quindi è stato deciso che anche lo sport entrava in questa in questi fondi dell'erasimo di base allora perché se riesco io ho di solito guardo invece il poi ci sono agenzie nazionali questo bisogna chiedere la sala dell'agenzia nazionale come si è fatto il caso perché è interessante questo perché questo è questo Grazie. Grazie. Allora, questione di programmi, in realtà si può finanziare qualunque cosa, vedete? Si può finanziare delle partnership collaborative, per esempio si può decidere che, non so, la pesca, la mosca, cioè non è una definizione di scopo, non professionale. Qualunque attività che vagamente centri con lo sport, può essere finanziata. Quindi si possono, per esempio, fare, si possono organizzare dei tornei. Il comune che decide di finanziare, chiede un finanziamento per organizzare il torneo europeo delle bocce, il torneo europeo della pesca nei torrenti. Quindi questa è una linea di azioni del finanziamento, che secondo me è molto interessante, non esplorata, nuova, in cui veramente si può concorrere con buone probabilità, perché intanto non conosce nessuno, tutti fanno degli errori. E questo perché veramente può essere qualcosa che anche a livelli di piccole realtà può essere applicati. vedete? Vedete, ad esempio, non proprio per l'europea sportativo, quindi si può fare, si possono fare delle reti per fare i tornei e poi si può organizzare, per esempio, un campionato stesso. oppure si può per esempio fare dei seminari su integrità nello sport il topic della violenza negli stati si possono anche organizzare degli eventi di questo tipo si può promuovere la good governance lo sport, la cattiva il riciclaggio degli atleti professionisti una volta che smettono che è un grosso problema perché gli sportivi quelli professionisti non sono tutti come i calciatori che guadagnano così tanti soldi che questo è una cosa per tutta la vita ci sono delle persone che sacrificano gli anni migliori per cui magari hanno dovuto studiare non lo fanno e poi si trovano che è tutto sornato non lo sanno bene quindi questi soldi servono anche per programmi di questo tipo quindi come esercizio potremmo organizzare un torneo come esercizio del corso organizziamo un torneo di questo corso organizziamo un torneo di boccette stiamo parlando di prendere i soldi per finanziare le tornee di bocce cioè da questa serata viene fuori la mosca nei torrenti quindi vedete come sono tutte iniziative dalle cose più grandi abbiamo visto le nanotecnologie a lo sport come sia possibile appunto con un po' di buona volontà e tutto sommato vi ho fatto anche vedere queste sono veramente due grosse fonti soprattutto vorremmo che non vendi vedete come tutto sommato sono abbastanza basta conoscere gli inglesi certo su una cosa l'inglese è una certezza però ecco basta come avere una conoscenza quello di inglese molto per la terra anche per potersi inserire in questo tipo di di erano e per chiedere soldi io adesso smetterei e sentirei quindi voi contavate di fare di fare una pratica no no se no un torneo di scacchi un torneo europeo di scacchi sì ma bisogna trovare poi fare la rete all'est noi invitiamo noi invitiamo qualcuno cos'è cioè voi dovete essere un'associazione quindi cosa dobbiamo fare bisogna creare una società un'associazione normalmente vedete insomma non profit scopilence ma scusi questa linea di finanziamento va avando come su tutte quelle che abbiamo visto prima oppure 26 giugno alle 12 ok beh può essere anche attività Marco però questo straordinario io credo questa piazza è un po' c'è un po' c'è un po' qui il drago mi dice anche quali sono gli award criteria cioè in base a quali criteri premieranno i progetti migliori c'è qualcuno che conosce qualche sport di ricchia la chiesa la 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 allora quindi mi dice chi può comporre allora poi se mette il pubblico un comitato nazionale olimpico un'organizzazione sportiva di benedire regionale regionale nazionale europeo internazionale una lega sportiva nazionale un club un club sportivo un'organizzazione con rappresentazione anche sindacati di lega addirittura anche le dette organizzazioni attive semplicemente non so la federazione italiana del tai chi o anche la federazione e poi bisogna mettersi in rete i progetti durano da due a 36 mesi e quindi a forzano magari i lingui tedeschi ne potrì diciamo adesso avete qualche domanda? sì sì io vorrei sapere qual è a grandi linee la grandezza dei progetti che possono essere finanziati ogni progetto ha la sua grandezza non esiste si va dai milioni di euro a qualche centinaia di miliardi ma in questo non esiste una diciamo vediamo se qui per esempio c'è ci deve essere la guida in fondo la guida in fondo che vi dice qual è il massimo no ma la mia domanda è un'altra in realtà cioè le faccio il mio esempio io e la ragazza di Camomè stiamo organizzando uno spazio giovani che sarà sul territorio di Granarolo dell'Emilia e siccome è uno spazio comunque che vuole promuovere la cultura civica etica e sociale e gestito organizzato completamente da volontari ci stavamo chiedendo se in qualche modo si potesse arrivare a ottenere un finanziamento europeo per quello richiedevo proprio la grandezza fisica del progetto non di quanto un progetto così locale che non ha nessuna dimensione europea ok deve avere una dimensione europea però ci possono essere anche delle cose legate che so al fondo sociale europeo e al fondo istrutturale che a quel punto passate attraverso la regione o attraverso le agenzie nazionali stavamo 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 altre domande io volevo domande la prima se il piano media è accesso diretto oppure c'è bisogno di un'intermediazione di un'intergenzia nazionale no dovrebbe essere accesso diretto e poi volevo perché fa sempre parte dell'animo plus e poi qui ci sono le agenzie nazionali tutto quello che è legato all'educazione passa attraverso l'agenzia nazionale che cosa è interessante no sapere se ad esempio anche non so dei giovani aspiranti reggis non so compagni di spettacolo di etrale possono attringere a questi fondi europei tramite cioè da soli gestamento tramite l'agenzia se ci sono dove li stiamo adesso sto in un po' se sono in questo dall'altro allora bisogna cercare in un po' sicuramente ricordare dove sono tutti i vari i progetti mi pareva che sono scusate la cosa ma ci sono un po' tutto tutto no allora lavoravo con media perché media era un progetto a sé vendito dalla regia fondue education quindi bisogna fare una ricetta sul portale che la vuoi facciare vedere noi abbiamo parlato di fondi diretti e fondi diretti e abbiamo visto come ragione di fondi diretti ma quelli che in pratica vengono tramite che passano tramite la regione come riusciamo a intercettarli diciamo prima per esempio il FEUGA gli agricoltori di solito sono informati dalle associazioni di categoria perché sono un software come europeo sociale europeo con cui si sono fatti per anni tutti questi corsi che renzi c'erano corsi terribili fatti per ingrassare i formatori non hanno creato nessun posto di lavoro sul fondo sociale europeo è stata fatta veramente soprattutto in certe regioni un'operazione scandalosa perché erano soldi che servivano per esempio per introdurre mondo del lavoro le donne che avevano avuto bambini quindi tra un certo anno pure non so i disabili c'erano proprio delle guideline e che cosa hanno fatto hanno fatto semplicemente dei corsi molto generici di formazione fatti di solito in questa regione è successo le cose scandolose di amici di certi politici che si prendevano questi soldi per fare formazione facendo formazioni assolutamente inutili per cui nessuno può trovare lavoro avevano soldi sprecati cioè trovare lavoro solo i formatori quindi questo tipo di fondi diretti passa necessariamente attraverso l'agenzia nazionale per esempio per adesso ci faranno questa agenzia nazionale per la coesione territoriale che dovrebbe gestire questi fondi attraverso gli entri locali e le buone associazioni di categoria devono fare possono essere noi l'industria l'agricoltura devono fare un monitoraggio serio di quello che viene prodotto ecco l'ultima cosa che non vi ho detto per non spaventarmi se vincete perché se vincete cosa succede se vincete dovete fare quello che avete promesso il che è relativamente semplice se non avete promesso vuol dire che lo potevate fare però poi c'è tutta la parte di gestione e rendicontazione allora innanzitutto una cosa buona dell'horizon 2020 è che non è più cofinanziato mentre prima mi ricordo la gran parte del progetto diceva ok io ti do 100 milioni di euro però tu comunque ne devi trovare 30 allora a quel punto anche solo 3 e a quel punto uno non aveva i premi di euro quindi non potete innanzitutto già questa parte è sempre una nuova propria della commissione è molto molto benvenuta perché prima di entrare la mia propria però rimane comunque il fatto che una volta che vincete voi dovete fare innanzitutto una gestione cristallina trasparente tenendo sempre tutto tutte le pezze di appoggio le carte di un banco le fatture tutto quanto in ordine anche perché di solito questi non vengono dati tutti subito vengono comunque dati a volte può essere necessario proprio anticipare dei soldi che dovevano dati qui a volte sono i problemi perché magari ti do subito il 50% il 50% il resto te lo do alla fine quando hai fatto tutto però fare tutto vuol dire che tu nel frattempo hai speso il 100% e quindi devi avere il credito da qualche parte per appunto avere già il 100% da spendere quindi c'è comunque una parte finanziaria che va costruita gestita e prevista per riuscire ad anticipare quello che vediamo subito c'è una parte di monitoraggio e poi c'è la parte di rendicontazione che normalmente per persone che non sono mai occupate è un po' difficile perché è la più banale una volta che si impana a farla però per uno che non l'ha mai fatta è senz'altro qualcosa che è troppo quindi normalmente nei progetti soprattutto se sono progetti di molti soldi si prevede che un costo del progetto sia quello di pagare una persona che segue quel progetto naturalmente non è che questa persona si può assolvere la maggior parte dei soldi del progetto è abbastanza inutile però questo è anche un modo di fare i famosi contratti al progetto questo è il tipico settore questo è un quarto al progetto nel senso che è una persona che si è dedicata più grande il progetto dovrà dedicarci del tempo a seguirlo ma quindi è un'Europa dei ragionieri se l'Europa da dei soldi vuole accertarsi che i soldi siano spesi allo stesso modo con le regole uguali per tutti e in maniera trasparente proprio perché sono state le mie esperienze quindi il ragioniere non è quello che ha l'idea non è quello che fa la rete non è quello che vince il progetto ma poi se si finge il ragioniere se è ma comunque appunto ci sono un'industria e poi il ragioniere non è segretario cioè anche una persona normale che si mette lì se punto uno ha un'idea è meglio che vada la confindustria che lì la sviluppa se dovete organizzare il torneo di voce è mica dovete andare a confindustria ah no ma quello era un esercizio da fare adesso dipende ci sono tante cose dirette cioè il confindustria dovrebbe informare non mi risulta che il confindustria faccia né voglia fare né abbia inizioni di fare un servizio beh potremmo fare quella festa dell'unità a Bologna facciamo il torneo europeo di boccette però dobbiamo organizzare un torneo europeo rischiate che lo finanzi appunto no ci vuole non sarebbe l'utilità dell'Europa no ci vorrebbe un cioè il torneo si fa comunque un comune si fa comunque permanente un festival dell'unità non è un soggetto giuridico non è che un torneo però eh no allora un comune di Bologna che dice nell'ambito del festival però quello non piacerebbe perché per esempio la commissione europea cerca di fare le cose che avvicinano tutti i cittadini quindi già dire che lo fai per un partito è aperto a tutti magari sì però qualche suggerimento è da dire va bene niente feste che facciano cose che è un comune perché è un comune che non ha un argomento perché poi ci sono comunque ricordatevi che quando arrivano queste proposte chi decide chi è premiato non è che decide la commissione lei stessa la commissione o le agenzie europee nominano degli esperti valutatori poi richiudono non so perché lo vanno richiudono in una stanza per qualche giorno non escono finché non hanno valutato e allora questi esperti normalmente guardano questo tipo è chiaro che qui vi ho fatto vedere che tra l'altro progetto la commissione dice cosa vuole e quindi l'esperto cosa fa a vedere questa grinta e dice allora questo progetto in che misura però ecco normalmente dietro tutti questi finanziamenti di questi progetti l'idea di base è che raggiungano il più ampio il numero possibile di cittadini però anche è fatto per dire un torneo di bocce uno dice ma se io faccio il torneo europeo di bocce mi raggiungerò 28 squadre di bocce organizziamo fra tutti i circoli arci europei un torneo di bocce ma stiamo scelte uno sport ah certo secondo me la palladura ci hanno già pensato calcetto ci hanno già pensato cercavamo uno sport un po' di minchia per quello però abbiamo un buon network di circoli arci è uscito adesso è chiaro che se questo che scatta giù non ci sarà una precedenza però se trovate qualche sport strano che so il salto della corda lei aveva una prova può essere veramente qualsiasi cosa cioè posso interruire togliendomi la ragione su questo ma per esempio uno dei temi che diventerà oggetto di un manifesto metropolitano è il tema dell'innovazione cioè della manifesto che non ha sceso il valutato no no ma infatti io lo cerco di dire se io mi pongo il problema se alcuni di loro magari anche di comuni un po' della provincia volessero partecipare a dei bandi per chiedere dei finanziamenti europei sul tema della manifattura digitale cioè unendo delle realtà artigianali che ci sono in vostro territorio e delle realtà come Fab Lab di me che succede non sarebbe più facile Lucia se ci fosse un organismo a livello metropolitano per gestire anche la loro gestazione che appropria la volta io quello che voglio dire è che appunto ho fatto questo master per formare l'esperienza perché oggi come oggi non ti fai l'organismo se puoi entrare non sai chi metterci perché nei comuni nelle regioni giocciari come qui nelle miglia le persone bravi che però hanno visto delle realtà limitate e che di solito tendono a ripetere le esperienze che hanno già fatto quindi muovendosi in quei settori per esempio il comune di Bologna è talmente vasta ogni comprensiva raggio proprio così ampio tutta questa disponibilità di fondi che forse si diciamo una ma è difficile perché il comune non riesce nemmeno a farli per se stessi cioè quindi non è facile che un'unica possa aiutare gli altri stiamo costruendo proprio una professione cioè questo non mi pare una volta che è costruita quella professione per esempio partecipa a un concorso una ragazza che è pallato e che è un'amministratrice di un territorio della provincia perché giustamente lei ha detto cioè bisogna specializzare questa cosa vi devo dire questa cosa che è bellissima questo concorso c'è un concorso in regione per fare allora gli studenti del master hanno telefonato e hanno detto ma allora noi potremmo farcelo considerare e poi hanno detto ah no noi non ve lo consideriamo il master perché non è finito ma i miei termini cioè perché loro sono ancora studenti del master quindi è ovvio che noi stiamo cercando di costruire una professionalità cioè bisogna è chiaro che ci vorrebbero l'assessore a queste cose cioè ci vorrebbe veramente qualcuno che cioè più che l'ufficio perché l'ufficio di soldi ai comuni cosa fa? fa servizio appunto a me stesso cioè cerca di procurare soldi al comune partecipando a dei bandi europei con il comune e già non riescono a vedere tutto quello che c'è per il comune figuriamoci se riescono a vedere per gli altri a fare per gli altri per mettere nella comunità sai è ovvio è ovvio sì che diciamo mettere su un piede un ufficio ci vogliono però delle persone delle persone giuste ecco perché non è è talmente veramente di tutto si può finanziare abbiamo visto la nanotecnologia attorno di voi cioè questa è un po' i due estremi e quindi insomma bisogna bisogna intanto cominciare a diffondere una cultura una curiosità e poi anche fornare degli esperti perché soprattutto per i progetti grossi bisogna fare il network in orare in inglese perché anche il network ha degli aspetti che non è che sono immediati perché significa non solo trovarsi con degli altri che parlano in inglese significa anche trovarsi con degli altri che magari hanno un sistema fiscale diverso un'organizzazione di lavoro diversa e quindi cioè ci vuole poi anche tanta buona volontà e tanta tanta flessibilità e poi ci vuole anche questo fatto di rischiare di dire io ci perdo tanto tempo per fare un progetto e poi forse non sarà finanziato se non sarà finanziato sarà importante capire perché non è stato finanziato perché poi arrivano le risposte con delle spiegazioni e allora a quel punto uno anche impara dell'errore se posso prima quando lei parlava della diversa fiscalità che hanno alcuni paesi cioè io so di alcuni finanziamenti dove in questo caso in diretta quindi che passano dagli entri nostri territoriali che si bloccano ma non per sbagliate valutazioni o del tecnico o dell'ufficio comunale o di quello regionale ma perché la comunità europea ci dice guardate che la vostra legislazione lei dice quella finanziaria io sono esempio della legislazione sugli appalti che dice lei non può avere questa linea di finanziamento se poi gli appalti li svolgono con questa legislazione in Italia non recepite poi si lo offre a un prezzo speriamo cioè ci sono vecchie direttive che l'Italia ha recepito e non le so comunque tutta la legislazione che sull'Italia sulle parti è per ricevimento che sia per i servizi che per i lavori che per le forcature sono tutte direttive poi c'è quest'anno però anche lì sulle forniture sulle forniture cioè anche lì ci sono le regole che sono state diciamo quelli diretti cioè su quelli diretti un privato cittadino deve avere questo tipo di attenzione perché se poi tutta la filiera si interrompa la regola nazionale noi abbiamo in Italia una regola cazzesca noi abbiamo DURC che è questo documento che bisogna chiedere e oggi scoprivo che noi che per aiuto devono organizzare un convegno pensate e allora è il giorno 5 lunedì 5 alle 9 e mezza iniziamo in una facoltà di giurisprudenza del bambone 22 sala a armi al primo piano a meno che non siano così tanti che nel caso dovremmo cercare un'altra sala e allora cosa vi volevo dire volevo dirvi che per ho chiesto come potevo fare cioè una cosa portare a pranzo i relatori portare a pranzo i relatori regole date dall'università di Bologna non si può spendere più di 30 euro in testa poi io devo portare a pranzo i relatori ma non ci posso andare io a meno che non sia anche un relatore poi dice va bene un diposto nel ristorante X dove l'ho sempre portato di Bologna e loro dicono no perché gli è scaduto il DUR non l'ha fatto come gli è scaduto il DUR e gli sono andati e dice no devono fare ogni 6 mesi quindi adesso un ristoratore una cartoleria che ti vende le matite da mettere nelle cose cioè ogni 6 mesi devono fare questa cosa quindi ci sono le certificazioni antimacchie ci sono le certificazioni per l'INPS e quindi è veramente cioè proprio a volte hai questo grande slancio che giudici dopo quando devi nella realtà quotidiana fare i conti e ti devi fare i conti con quelle che sono le regole di tutti i giorni che tutta la pubblica amministrazione diciamo qui l'amministrazione deve rispettare a volte ti passa la voglia di dire era meglio se non te li avevo questi soldi perché mi metto pazza non spendere speriamo in una semplice adesso Lorenzo detto che mi chiamo guerra alla burocrazia facciamo di sapere anche queste grazie 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 grazie